Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Mountain Sea Fitness. Oggi invece delle solite action cam andrò a recensire una Handicam, una videocamera compatta che esteticamente ha la forma un po' vintage delle tradizionali videocamere. Oggi queste camere sono diventate molto più compatte e leggeri di un tempo, offrono un ottimo compromesso tra leggerezza, compattezza e qualità dell'immagine. Si tratta di una videocamera Under e come la maggior parte di questi modelli ha una risoluzione massima di 1080 pixel a 30 frame per secondo. Rispetto alle action cam è difficile trovare delle Handicam con risoluzioni fino a 4K e quelle poche hanno ancora costi molto alti. Anche i frame in genere sono più bassi perché queste camere non sono fatte per registrare video in azione e ad alta velocità. Tornando a questo modello la qualità delle riprese è elevata comparata al prezzo di vendita. I colori sono belli, si avvicinano a quelli reali ed è buona anche la definizione così come il contrasto. Anche i cambi di illuminazione sono ben fatti, abbastanza fluidi e mai troppo bruschi. Dopo aver provato molte action cam ho notato subito la mancanza dell'effetto fisheye che nei casi di riprese da vicino ho molto apprezzato in quanto deforma un po' gli oggetti, mentre nei panorami devo dire che la maggior ampiezza dell'obiettivo delle action cam un po' mi è mancato. Un'altra caratteristica molto interessante delle Handicam è la possibilità di zoomare. Quest'Ando Air ha uno zoom ottico che arriva fino a 16x, molto bello e utile per riprendere particolari in lontananza. Quello che mi ha un po' deluso è lo stabilizzatore che speravo fosse migliore e potesse ridurre maggiormente le vibrazioni che sono soprattutto evidenti quando si usa lo zoom. La videocamera arriva in questa piccola confezione contenente la camera, la sua custodia, la batteria, il manuale, un cavo USB, uno HDMI e un telecomando molto comodo per controllare la camera a distanza. La camera ha una forma molto compatta, l'impugnatura è comoda e la presa è ben salda durante le riprese. Sulla parte frontale è posizionato l'obiettivo con una protezione per la lente. Nella parte inferiore è presente lo sportello dove si inserisce la batteria e la scheda SD. vicino è presente l'attacco a vite per posizionarla su un cavalletto. Sopra invece abbiamo l'attacco per il microfono o per il flash. Qui è presente una piccola leva per controllare lo zoom e per scorrere le voci del menu mentre subito dietro c'è il tasto per scattare le foto. Basta aprire lo schermo per accendere la macchina ed essere pronti per registrare. Ha un bello schermo da 3 pollici che può essere ruotato in qualsiasi posizione, cosa molto utile se ci si vuole filmare perché in questo caso si può controllare sempre cosa si sta inquadrando. Peccato non sia touchscreen, sarebbe stato molto comodo ma il prezzo sarebbe aumentato. Premendo il tasto più in alto si attivano i led per la visione notturna che permettono di registrare video in bianco e nero anche di notte senza alcuna illuminazione. Possiamo poi passare alla scelta della modalità. Abbiamo la modalità video, timelapse e slow motion. Oppure possiamo scattare una foto e scattare foto in serie. Rivedere i video e le foto ed infine attivare la modalità motion detection per registrare quando viene rilevato un movimento. Entrando nel menu si può modificare la risoluzione video. Oltre alla 1080 pixel ci sono varie risoluzioni a 720 che arrivano fino a 120 fps per realizzare ottimi slow motion. Si può impostare la durata dei video oppure scegliere il tipo di scena più adatta come sport, ritratto, panorami e altre possibilità. Si può impostare l'esposizione e il modo in cui la camera la determina. Quindi attraverso multiarea, spot centrale oppure una media pesata. Viene fornita un'ampia possibilità nei settaggi dal contrasto alla saturazione, dalla quantità dei bianchi alla nitidezza. È presente anche la traduzione in un buon italiano del menu. Infine, quando utilizzate una nuova scheda SD, vi ricordo di formattarla in modo che i file vengano registrati correttamente. Per concludere, l'ho trovata una buona videocamera. La marca Andeor è una marca di buona qualità e infatti il rapporto qualità-prezzo è ottimo. Si è ben comportata nella maggior parte delle situazioni senza evidenziare difetti particolari. Può essere sicuramente una buona scelta per chi è in cerca di una videocamera da usare durante i propri viaggi o per girare video in famiglia, mantenendo una spesa contenuta. Spero che la recensione vi sia stata utile. Se avete qualche domanda potete sempre scrivermi nei commenti. Se siete interessati a seguire i miei prossimi video, ricordatevi di iscrivervi al canale con il tasto qui sotto. Saluti a tutti e alla prossima recensione.